Salve, sono Pileggi, lavoro con Simone Cicalone, stiamo registrando un video, un servito, no, neanche le basi, neanche le basi, perché sei un uomo con la clava, evidentemente, tutto è bene, però veramente. Ah, quindi, ma noi il suo braccio non è un braccio in una clava. No, vabbè, comunque, se quella persona vuole andarsene, è libera di andarsene, a prescindere da chi sia e a prescindere da cosa tu credi che abbia fatto, perché attenzione, raga, nessuno ha visto, nessuno ha colto in fragrante nessun altro. Qua si stanno basando su supposizioni e dovrebbe essere di cattivo gusto, anzi, come è stato citato, voglio usare le stesse parole, maleducazione se uno si alza e se ne va e non vuole partecipare a un video. Qua stiamo alla follia. Anche perché se noi domani andassimo sotto la metro, lui ipoteticamente parlando non ci conoscesse, e noi provassimo a fare quello che fa lui là sotto, e beccamo lui seduto, e noi andiamo lì, oh, stiamo a fare servizio, oh, devi rispondere, oh, ma sei uguale a tutti qua là, lui piettemena, ha capito qual è la differenza? Lo stai seguendo, gli stai a romper cazzo, ma quello è il minimo che ti dica solo un vaffanculo, è il minimo. Se ne vuole andare, come ho già detto, è giusto che se ne vale, raga. L'abbiamo letto prima i vari reali del codice penale, ok, questo non è legale, questa è molestia, questo è fitinamento. È un approccio sbagliato. È un approccio sbagliatissimo, è un approccio che peraltro lancia pure un messaggio quasi di violenza, cosa che deve essere super evitata. Comunque, Matti, scusa se te lo dico, ma... In base problematiche, perché è una persona che di base, tu credi che stia a compiere degli illeciti, l'approccio violento è proprio l'ultimo. Io mi ricordo benissimo la live in cui vennero loro ospiti, e Matti ha inalberato rispose a una domanda fatta da Davide, ma siamo nel 2023, che dice, 2022, possiamo parlare di fascismo. Beh, con i tuoi atteggiamenti stai confermando quantomeno di avere quell'ideale, quella bandiera. Poi non mi azzardo a fare le azioni, però stai confermando il contrario di quello che ti chiami. Ma se non gli piace la parola possiamo dare anche un altro termine, possiamo coniare un altro termine, sempre quello è, sempre quello è, atteggiamenti di quel tipo sono, chiamatelo come vi pare, chiamamolo fash, fush, fiss, fump, chiamatelo come cazzo volete, sono atteggiamenti di quel tipo, ok? Credo che la parola è più azzeccata. E la cosa che vorrei ricordare, come diceva Davide l'altra volta, Marra, mi fa specie che uno sportivo, anche campione, non so chi me l'avete detto prima, intendi Mattia Faraoni, Mattia Faraoni frequenti e faccia contenuti con queste persone, uno sportivo, visto che parliamo sempre del valore dello sport, pure sto governo, ci tiene tanto allo sport, il valore dello sport, e poi però lo sportivo partecipa a queste robacce, questa schifezza, che di valore non ha niente. Ma guarda, io credo che Mattia ha dimostrato di essere un ragazzo intelligente, in molte occasioni. Faraoni, 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 naturalmente. Io spero, dovrebbe essere sportivo. Lo è, lo è, lo è, lui allena, ha praticato, fa tanto, ma che cazzo ha i valori, è sportivo pure i piletti. Quali sono i valori che dai ai giovani che alleni, che stanno lì nella tua palestra, che si allenano con te, i pischelli, che vengono affidati dai loro genitori a te, per farli allenare da te, quali sono i valori che tu trasmetti in questa roba qua? ma col cazzo se io avessi avuto un figlio di 15 anni e c'ha solo due, col cazzo che mio figlio lo porterei mai, mai a farlo allenare da uno come te, mamma, cos'è me paghi tu? Infatti io spero che Mattia sia così arguto insomma di cambiare proprio aria verso Cicalone, capisco che sono amici, però beh dopo, dopo tutti questi fatti cioè per lui è solo una penalità proprio come se si parla di sport, no? Cioè va a perdere d'immagine, lui crede forse di acquistarla ancora di più ma ci va solo a perdere. Sennò non andrebbe vestito di sponsor addosso con la quale collabora, io credo sì che si tratti di pubblicità. Capisco che in ballo ci siano molti interessi, questo lo capisco. Sì, sì, certo, comunque il canale Cicalone gli ha dato tanto al livello di immagine, lui più volte ha detto guardate io non prendo un euro però comunque lasci intendere che c'è un'immagine già dai famosi video nei quartieri criminali dove hai partecipato io ho conosciuto personalmente Mattia è un ragazzo ha partecipato a un video di un quartiere criminale ai tempi sì, sì, sì. Diciamo che l'ho conosciuto è un ragazzo dolcissimo intelligente un ragazzo con cui ci può parlare di tutto per questo è un peccato è un peccato perché ancora non lo faceva non lo faceva ancora è un peccato il fatto che lui stia continuando a sposare questo progetto capito? Mattia lo dico proprio col profondo del cuore non è una cosa non è una critica puoi fare sei libero di fare ciò che vuoi però io fossi in te campione mondiale isca regà non stiamo a parlare del campione regionale che dice ok faccio queste cose per diventare famoso Mattia Faraoni è già famosissimo partecipando moltissime volte a programmazioni da zone stiamo a parlare di un ragazzo che non gli serve questo per lavorare il suo pane politiano già ce l'ha capite? grazie